squadra 1 chiede luce verde passo ricevuto vai andiamo qua la stradina va giù giusto qua ragazzi è già lì è già uno lì a 40 metri allora squadra ragazzi squadra 2 bravo sulla destra taglia lì e gli attacca da sotto dai paolo feto da destra noi sinistra andiamo abbiamo già qua davanti ragazzi occhio dai ragazzi dai spingete noi li teniamo occupati dai spingete muoversi dai avanzo gabry sulla tua destra avanti sulla sua destra no Gabri mi dai un pello di copertura? Un pello di copertura che arrivo Vado, vado, mi muovo, mi muovo Salite raga, salite Quello lì è morto? Quello lì è morto? Ok Salite ragazzi, salite Avanziamo, avanziamo Noi siamo già vicino all'obj Avanziamo raga Squadra 2 avanza Squadra 2 avanzi Cazzo, vi ho ripreso Tomasino Vai Paolo Vai, vai, vai un po' più a destra Non salmi qua, controlla giù Qui mica la squadra 2, come siete messi? Noi abbiamo preso l'obj, venite su OVJ preso, venite su, occhio, che non so se siamo tutti presi State attenti Tieni sempre un occhio Tieni sempre un occhio Tieni un occhio di là Il vostro soldato americano ferito sarà da guarire e da fare sfiltrare Poco in quella zona comunque Che piatto mica? No, sono arrivato adesso Allora, questa è la Bushabal Ok Lo proveremo presso l'obj 4 Ok È da uccidere a colpo singolo Un colpo Ok 30 metri di distanza Ok, o io a te Esatto Ci sarà anche un nostro soldato americano ferito da curare e portare via Con i medici che ci hanno dato il primo vittimo È andata Ok 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 E' l'ami Oh, occhio, occhio, fuori 12, Pieri. Preso! 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 Cazzo! Siete in cinque, sono in cinque. Brutta cosa. Siete in cinque. Boom! Baby! Bella sport! Scusa, eravate messi bene, eh? Brutta Brun! Che che era, non si deve fare la casaca! Eccolo lo Sniper con l'SVD! Che ero a 60? Quazza di merda! Era lo Sniper! Come ma c'è, Italia! Come ma c'è, bravo!